Dopo essere stato precipitato in una giungla, il mercenario americano Royce perde i sensi a causa del cattivo atterraggio. Quando rinviene, cominciano a cadere paracadutate altre persone. La soldatessa israeliana Isabel, il medico Edwin, il narcotrafficante messicano Cuciglio, lo speznaz russo Nicolai, il guerrigliero africano Mombasa, il detenuto condannato a Mortestans e il mafioso giapponese Anzo. Con l'eccezione di Edwin, tutti i presenti sono uomini letali, esperti nell'uso delle armi, eppure sono ignari del luogo e dei motivi della loro presenza in quel posto. Esplorando la zona, che si scoprirà essere un remoto pianeta artificiale usato come riserva di caccia per prede umane, il gruppo trova il cadavere decomposto di un marin e tracce di una creatura sconosciuta. Un branco di bestie aliene uccide Cuciglio, mentre gli altri giungono in un accampamento pieno di cadaveri alieni scuoiati e un predator vivo legato ad un totem. Compaiono quindi tre feroci predator, dei quali uno considerevolmente più grande, che attaccano ferocemente e nella colluttazione Mombasa muore cadendo in una trappola. Isabelle rivela di aver già sentito parlare dei predator, in un rapporto dell'unico sopravvissuto di una squadra che in maniera simile fu attaccato in Guatemala nel 1987. Al gruppo si aggiunge Nolan, un uomo sopravvissuto per anni sfruttando la tecnologia aliena, che descrive agli altri le divisioni sociali all'interno della razza aliena e delle rivalità tra singoli membri, diversi fra loro così come i tre mostri inseguitori. L'uomo, evidentemente disturbato, tenta di uccidere gli umani per potersi cibare di loro, ma Royce riesce ad attirare un predator nelle vicinanze che uccide Nolan. Nicolai, Stanz e Anzo si sacrificano riuscendo ad uccidere due predator. Edwin rimane ferito da una tagliola e cade in una trappola con Isabelle, mentre Royce torna all'accampamento e libera il predator legato al totem, ottenendo in cambio un'astronave diretta sulla Terra, che però viene fatta detonare dal predator dominante, che poi ucciderà il predator liberato da Royce. Nel frattempo, Edwin ferisce a tradimento Isabelle con un piccolo bisturi all'altezza dello sterno, recidendo un nervo primario che la rende semiconscia e semiparalizzata, rivelando di essere un sadico serial killer. È per questo che è stato scelto anche lui insieme ad altri pluri omicidi. Royce, sfuggito all'esplosione, smaschera facilmente Edwin e lo usa come esca per l'ultimo predato rimasto, coprendolo di esplosivi. Il mostro sopravvive all'esplosione e rimane intrappolato in un cerchio di fuoco, ove la sua visuale ad infrarossi è confusa, ma riesce a raggiungere Royce. L'intervento di Isabelle lo salva dalla morte e gli permette di vincere l'ultimo scontro. All'alba successiva, Royce e Isabelle osservano sconfortati il cielo pieno di paracaduti che trasportano le nuove prede. Una nuova caccia all'uomo ha inizio, ma con la speranza di tentare una nuova fuga. Se questo video ti è piaciuto, iscriviti al canale per restare sempre aggiornato sui nuovi contenuti.